Anche tu, vero, hai acquistato un oggetto su Amazon dalle recensioni stellari? Ma ne sei rimasto deluso? Lascio perdere! È indubbio che la piattaforma di e-commerce abbia tratto un enorme vantaggio dalla situazione in cui la maggior parte della popolazione mondiale si è trovata, ovvero il lockdown, che ha favorito enormemente tanti acquisti online. Ma attenzione, tra tutti i venditori onesti c'è anche chi ha trovato il modo di lucrarci in modo illegale. Chiariamoci, non è che tutto ciò prima non avvenisse, ma è certo che il boom dell'e-commerce ha incentivato questi comportamenti illeciti. In questo caso specifico il problema sono le famose recensioni a 5 stelle su Amazon. Infatti sarà capitato a molti di voi che dopo un acquisto arrivi una mail come questa, dove ci viene chiesto di valutare il nostro acquisto. E se ti dicessi che l'azienda è disposta a regalarti il prodotto in cambio di una recensione a 5 stelle? E viene da chiedersi come mai un'azienda dovrebbe essere disposta a regalarmi un oggetto in cambio di una recensione a 5 stelle, quindi completamente positiva, che in genere vengono richieste su cuffie bluetooth, pellicole o comunque gadget di poco valore. E attenzione, ho detto recensione a 5 stelle e non feedback per cui potrebbe anche avere un senso passare come un venditore completamente affidabile? Perché Amazon sulla sua piattaforma ha un sistema di posizionamento per il quale gli oggetti con il maggior numero di recensioni positive vengono premiati a discapito di altri. La notizia clamorosa degli ultimi giorni è quella che Amazon in Inghilterra si è trovata costretta a cancellare ben 20.000 recensioni scritte addirittura da 7 dei suoi 10 recensori più famosi. L'indagine, avviata dal Financial Times, ha fatto emergere un giro di favori tra recensori e piccoli venditori, molti dei quali di origine cinese. Le aziende offrivano in regalo diversi prodotti proprio per ricevere queste recensioni 5 stelle, di modo tale che era soddisfatto il venditore perché aveva una recensione a 5 stelle, il cliente perché si vedeva recapitare un oggetto che sarebbe stato completamente rimborsato, ma erano fregati tutti gli altri acquirenti ignari di questa pratica molto scorretta. Tra i recensori indagati c'è Justin, uno dei recensori più attivi su Amazon UK, che solamente ad agosto ha recensito prodotti per 15.000 sterline, quindi quasi 17.000 euro, inclusi smartphone, scooter elettrici e attrezzi per il fitness. Indagando inoltre, hanno scoperto che lo stesso utente ha poi messo in vendita gli stessi prodotti su eBay descritti come mai utilizzati o pari al nuovo, riuscendo a ricavarne ben 20.000 sterline. Insomma, la tecnica era questa, ricevo un articolo gratis in cambio di una recensione positiva e lo rivendo su eBay a prezzo maggiorato. Come fare quindi a non cadere nella trappola delle recensioni fake? Facciamo un esperimento e digitiamo su Amazon cuffie bluetooth. Per aver maggiori probabilità di trovare un prodotto per cui siano state richieste delle recensioni finte, mettiamo quelli pubblicati negli ultimi 30 giorni. Prendiamo per esempio queste cuffie, dalla foto molto dubbiosa e dalle poche recensioni e tutte positive. Entrando nell'inserzione possiamo vedere che è ben indicizzata, ma andiamo a vedere nello specifico chi la sta vendendo. Ecco, la vende un solo venditore. Oltretutto, come si può vedere dal profilo di origine cinese. I dati dell'azienda sembrano messi a caso, sembra quasi che un gatto abbia digitato a caso sulla tastiera camminandoci sopra, ma la partita IVA è inglese e risulta valida. Cercando su Google il primo nome che appare nell'indirizzo aziendale risulta essere associato a molti profili diversi di Amazon. Tutti venditori cinesi e tutti venditori di oggetti a basso prezzo. Analizzando altri oggetti che sono sul marketplace da molto più tempo, possiamo notare come accanto alle tante recensioni positive ci siano anche alcune recensioni negative che rimarcano il problema prima citato. Ovvero, l'acquirente era stato attratto dalle tante recensioni positive, ma in realtà è stato molto deluso dal suo acquisto. Tutto ciò quindi sta ad indicare che le numerose recensioni positive non possono essere tutte vere. Non posso quindi affermare che una recensione breve e completamente positiva sia del tutto finta. Infatti i venditori si stanno attrezzando per richiedere recensioni lunghe, dettagliate e con più foto possibili, magari anche con qualche video di dimostrazione. Sta tutto al nostro buonsenso riuscire a capire quali siano buone e quali no, magari non puntando su prodotti appena usciti. Per il caso inglese Amazon ha dichiarato che continuerà a proseguire le indagini assicurando ban e denunce per chiunque violerà le sue regole. Infatti l'azienda di Jeff Bezos non è nuova a questi comportamenti, ma assicura che solo l'1% delle recensioni potrebbero essere fake, ma esperti dicono che questo numero è molto sottostimato. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Qui ai lati troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da YouTube e dal centro il tasto per iscrizione, mentre in descrizione i link a tutti i miei social network.